Prima di iniziare, vorremmo chiedervi un favore speciale. Se vi piace il nostro canale e volete rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie e gossip, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale, Amica Gossip, e ad attivare tutte le notifiche facendo clic sulla campanella. In questo modo, non vi perderete mai nemmeno una delle nostre esclusive. Ciao, amici di Amica Gossip. Oggi ci troviamo qui con un cuore pesante per darvi una notizia triste e commuovente. È con profondo dolore che dobbiamo annunciare la scomparsa di un'icona del cinema, l'attrice francese Juliette Meignel, madre di Alessandro Gassman. Juliette ci ha lasciato all'età di 87 anni a Roma, il venerdì 21 luglio 2023. Alessandro Gassman ha condiviso questa notizia con i suoi seguaci sui social, accompagnando il messaggio con un toccante video che raccoglie i ricordi indimenticabili della sua infanzia accanto a sua madre. In un commosso tweet, l'attore ha scritto, «Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene, buon viaggio mamma». Una perdita che lascia un vuoto nel cuore di chiunque abbia amato il talento di Juliette Meignel e l'ispirazione che ha portato al mondo del cinema. Nata il 22 gennaio 1936 in un piccolo paesino della Francia, Juliette si è avvicinata al mondo dell'arte fin da giovane, e il suo talento e carisma l'hanno portata ad essere diretta da registi francesi di grande spessore. Il film «Occhi senza volto» del 1960, in cui ha recitato, ha segnato l'inizio della sua notorietà e le ha valso anche un orso d'argento alla berlinale come miglior attrice nel film «Storia di un disertore». La sua carriera ha toccato varie sfere del mondo dello spettacolo, da celebri pellicole cinematografiche come «Peccati di famiglia», «Vizio di famiglia», «Il maestro di violino» e «Di padre in figlio», fino ad interpretazioni indimenticabili per il piccolo schermo, come la maga Circe nello sceneggiato televisivo «L'Odissea» e «Madame Bovary». Non solo un'icona del cinema, ma anche una donna che ha trasmesso al figlio Alessandro la passione per la natura e l'ambiente. Alessandro ha sottolineato più volte l'influenza che sua madre ha avuto su di lui in questo ambito, insegnandogli a rispettare e proteggere il nostro pianeta. Oggi vogliamo rendere omaggio alla carriera straordinaria di Juliette Meiniel e al suo impatto duraturo sulla cultura cinematografica. Il suo talento e la sua bellezza hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di molti, e la sua memoria continuerà a vivere attraverso i suoi film e la sua influenza nel mondo del cinema. Vogliamo concludere con una domanda per voi, cari spettatori. Qual è il vostro ricordo preferito legato ai film di Juliette Meiniel o ad Alessandro Gassman? Scriveteci la vostra risposta nei commenti qui sotto e condividete i vostri pensieri e ricordi con la nostra meravigliosa community di Amica Gossip. Grazie per averci accompagnato in questo momento speciale e commovente. Vi aspettiamo al prossimo video con altre news e gossip imperdibili. Restate sintonizzati e ci vediamo presto.